Eccoci qua, siamo su Lupia, sono Michele Boni, qualcuno mi conosce già per l'attività che svolgo a Daffi come clienti e amici e sono qua appunto in previsione delle prossime elezioni in quanto c'è questa nuova vista che si sta proponendo per appunto le elezioni comunali che sono i gardesani e diciamo vista anche la situazione complessa in cui stiamo vivendo causata da questa pandemia e ci sono appunto attività che sono in difficoltà, bisogna fare attenzione a mio avviso a appunto queste esigenze nuove che la popolazione, i cittadini hanno in questo momento hanno bisogno e noi siamo qua per diciamo appunto dare una mano, un sostegno e in visione del prossimo futuro e in quanto alcune cose sono state fatte bene, altre cose invece appunto ci sono appunto delle lacune oppure non sono state fatte e noi siamo qua appunto per provare a risolvere alcune problematiche, se ci sarà l'opportunità attraverso il voto noi siamo qua per cui votate i gardesani. Grazie a tutti!